Slogan incisivi su cartelloni, bandiere al vento e partecipazione. Sono tornati i Fridays for Future, sono tornati gli scioperi globali del clima lanciati qualche anno fa a livello planetario da Greta Thunberg che si traducono in tante manifestazioni a livello locale. La città di Pesaro oggi, in questo venerdì 23 settembre, è stata una di queste, una delle 70 città italiane che hanno aderito a questo sciopero per il clima con ragazzi che si sono ritrovati alla Palla di Pomodoro in Piazzale della Libertà per esternare tutta la loro preoccupazione per i cambiamenti climatici, per l'assenza di azioni in questa direzione ed è un Fridays for Future molto particolare perché arriva a pochi giorni dalla tragedia della catastrofe ambientale alluvionale nelle Marche che è stato un promemoria evidente per quelli che sono gli effetti climatici e anche a pochi giorni dalle elezioni. Sicuramente il fatto che tra l'altro per caso sia capitato il 23, due giorni prima delle elezioni e che sia stato organizzato proprio durante questo periodo in cui le Marche hanno subito devastanti conseguenze della crisi climatica significa tantissimo per noi e speriamo che proprio grazie a questa situazione riusciremo a sensibilizzare di più al riguardo. L'altra volta, anche questa volta, abbiamo chiesto e chiediamo e chiederemo azioni ai governi ma soprattutto vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica. Ora di azioni individuali per risolvere il problema ce ne sono tante ma in 25 i cittadini faranno quella più importante forse nei paesi democratici, cioè il voto. Noi chiediamo che questo problema, il problema ambientale, venga considerato come uno dei problemi più importanti del momento. La maggior parte dei ragazzi coinvolti oggi sono delle scuole superiori, molti dei quali minorenni non andranno a votare ma questo non toglie come questo momento possa essere un promemoria importante per rivedere le scale delle priorità elettorali in vista del prossimo governo. Ritengo che comunque i giovani abbiano il compito di svegliare anche gli adulti che non ritengono che questi problemi siano importanti e quindi anche se non votate venite in piazza e protestate perché la classe politica si occupi di queste questioni importanti. Non solo ragazzi delle scuole superiori, al fianco degli studenti anche l'amministrazione comunale di Pesero, la CGL e le associazioni, la Onlus Gulliver, la Lupus in Fabula e Greenpeace. Ora più che mai l'unione fa la forza, abbiamo contattato varia gente e non ci aspettavamo un riscontro così positivo al riguardo, soprattutto il fatto che condividano Gianni Delia in prima persona, famoso poeta e letterato della nostra città, condivida in modo così profondo i nostri ideali. Perché è tornata la piazza ragazza, su tutta la terra e senza confini, di nuovo a invadere, verde di rabbia, il mondo salvato dai ragazzini. E i versi di Gianni Delia sono stati il sottofondo poetico a questa edizione dei Fridays for Future. Delia che ha letto la poesia al suon di lei, nata proprio tre anni fa, di ispirazione al Fridays for Future di tre anni orsono con questi temi, con queste sonorità che sono state tradotte in versi. Passando per la piazza il 15 marzo del 2019, arrivando con la bicicletta da Via Branca per arrivare in piazza, ho sentito questo rombo con i tamburi e questo slogan. Questo slogan mi sembrava una lingua, infatti era latino, Quo usco e tandem, abutere pazienza nostra, che sarebbe una della catilinaria di Cicerone e quindi è fino a quando abuserete della nostra pazienza. Sono venuto qui appunto a leggere questi testi che sono nati da quell'incontro, cioè l'incontro tra la voce della lotta e poi andando giù al mare, la voce della primavera, la voce del mare, tra una voce suave e una voce energica, per una poesia che parli appunto della pace, della salvaguardia appunto della terra e della salvezza della terra. Ecco, questo è il nostro problema. Quindi penso che il nostro problema oggi sia proprio quello di siamo qui per la pace e soprattutto per trovare un cervello nuovo, come dice Baudelaire, un cervello nuovo che sia in grado di evitare che ancora l'uomo pensi che a livello individuale, a livello di stati, si possa risolvere con la violenza e con la guerra qualsiasi questione.